Secondo quanto riferito da un'amica di scuola, Kate Middleton ha lottato con la fiducia quando è entrata per la prima volta al Marlborough College. L'ex compagno di scuola di Kate ha detto che la duchessa di Cambridge ha lottato con fiducia e ha persino sofferto di eczema a causa dello stress. Tuttavia, si stabilì. Tanto che alla fine del suo tempo a scuola ogni ragazzo della scuola le piaceva. Kate è tornata dopo la lunga pausa estiva ed è stata una bellezza assoluta. Ha detto al Daily Mail Gemma Williamson, un'amica di scuola della duchessa. Ogni ragazzo della scuola la immaginava Marcio. Kate si è unita al Marlborough College nel 1996 dopo aver lasciato il suo precedente collegio, Down House. È stato riferito che ha lasciato Down House a causa di presunti atti di bullismo. Williamson told the Daily Mail. Apparently she had been bullied very badly and she certainly looked thin and pale. She had very little confidence. Recent reports reveal that the Duke and Duchess of Cambridge are currently considering sending their eldest child, Prince George, to the school. When she arrived she was very quiet. John Gall, Katzhaus tutor at Marlborough College, told the Daily Mail. Entrare in una grande scuola come Marlborough è stato difficile, ma si è ambientata rapidamente. Il duca e la duchessa di Cambridge si sono conosciuti 20 anni fa mentre studiavano all'università di St. Andrews in Scozia. La coppia reale viveva a poche porte di distanza l'una dall'altra nella ST Salvatore's Hall. Il loro alloggio per studenti. Dopo molti anni di frequentazione si sono sposati all'abbazia di Westminster nel 2011. Da allora hanno accolto i loro tre figli. Il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.